La prima partita di Champions del girone, una partita importante perché affrontiamo una squadra che fa della fisicità, oltre che ha le qualità tecniche che ha nel reparto offensivo, una squadra pericolosa da affrontare, sicuramente la squadra domani farà una grande partita, riscatteremo sotto il piano della prestazione la partita di Torino, ci sarà l'apporto del pubblico perché domani giocheremo in casa e quindi ci sarà il sostenere del pubblico che non è mai mancato così come è stato nella partita col PSV e quindi ci saranno tutti i presupposti per fare una grande serata e una grande partita. No, non mi preoccupo assolutamente della situazione e soprattutto direi in questo periodo siamo stati anche un pochino sfortunati con gli infortuni perché gli infortuni muscolari sono solamente quattro, gli altri sono tutti traumatici e quindi rispetto a un anno fa, a settembre di un anno fa gli infortuni muscolari sono identici, uguali come numero, quest'anno abbiamo Isharawi, Abate che tra l'altro giovedì dovrebbe essere a disposizione con la squadra, Montolivo e Kakà. Kakà era arrivato una settimana quindi purtroppo è un infortunio che nessuno si aspettava, tra l'altro poi nella partita di sabato la mia intenzione era quella di fargli fare solamente un tempo, così non è stato perché abbiamo avuto l'infortunio di Montolivo e questi sono gli infortuni muscolari. Poi ci sono gli infortuni traumatici che lì ci vuole una sfera di cristallo perché abbiamo due menischi, una rotola fratturata, una spalla di Niang che tra l'altro giovedì dovrebbe essere a disposizione e quindi per la partita di domenica sarà anche lui. Pazzini che è stato operato il 23 maggio e l'abbiamo tirata alle lunghe l'anno scorso perché avevamo bisogno di lui per il finale di stagione. È vero che il numero degli infortunati fa sì che sembra un bollettino di guerra però il lavoro che hanno fatto sia i preparatori atletici che i fisioterapisti fino a questo momento qui è stato ottimo perché gli infortuni muscolari sono tali e quali a quelli dell'anno scorso. Tra l'altro uno non si è infortunato neanche con noi ma si è infortunato nella partita con la nazionale. Sì no l'emozione è tanta perché esordire in Champions a San Siro diciamo che c'è tanta voglia di esordire, c'è tanta voglia di affrontare questa squadra e sì l'anno scorso ha portato bene appunto speriamo si riproponga la cosa. C'è una tradizione di solito chi viene qui di solito gioca, di solito. Non sono abituato a venire qui allora. No beh sicuramente comunque nelle grandi squadre non c'è mai un posto fisso per nessuno forse solo per qualcuno nel senso perché sono grandi campioni però sicuramente avere la fiducia dell'allenatore, avere la fiducia della società, avere comunque l'ambiente che ha fiducia in te aiuta il giocatore soprattutto magari nei momenti non positivi quando appunto ha bisogno di qualcuno che ti dà un conforto e questo può essere l'arma in più. Ultima cosa conosci bene il Celtic, è giocato come ricordava Alessandro Bianchi due volte nella scorsa stagione. Che squadra è? Ovviamente bisogna temerla però ci sono anche delle cifre. OEMU Celtic che nell'ultima trasferta di Champions League perde con lo Shakhtar Karaganda 2-0, una squadra del Kazakistan. Quindi che Celtic è in trasferta? I numeri appunto dicono che è forse meglio in casa che in trasferta. Però come ha detto il mister è una squadra fisica, una squadra che comunque non usa solo la fisicità per giocare a calcio ma è anche una squadra comunque abbastanza tecnica. Poi sta a noi comunque indirizzare la partita nel modo migliore anche perché appunto giochiamo in casa, giochiamo a San Siro, il nostro pubblico ci aiuterà sicuramente come ha fatto nell'ultima partita giocata in casa e quindi sta a noi partire subito alla grande e riscattarci anche dalla trasferta di Torino. Grazie. Grazie. Grazie.